il paese più bello del mondo, il paese dei miei nonni, dove sono nati i miei genitori e dove ogni anno venivamo a trascorrere le vacanze di Natale. Questa è via Garibaldi, comporta Napoli e si chiama così perché mi hanno detto che andando sempre dritti si arriva a Napoli e la via invece si chiama così perché ci passò Garibaldi per andare a Caprera. In questo palazzo è andata scuola mamma però adesso c'è il municipio. Questa è la chiesa della Madonna Pellegrina che l'ha fatta costruire proprio la Madonna una volta che era scesa nel paese e ha detto qui sono scesa e qui voglio che mi ci costruite la chiesa. Quel signore che sta comprando il giornale è l'avvocato con la cioppo. Papà dice che è famoso perché va a fare le cause pure nelle città del nord. Ma è giusto che noi poveri operai avremmo fatica pure la vicina di Natale? Eh ma ha finito! Ha ha finito! Natale, Pasqua, dovete lavorare proletari, il muro è crollato, chi vi difende più? Ne parliamo! Quella signora in paese la conoscono tutti, si chiama Assunta. Oh che fide belle sta! Mi piacevo lasciar soli la vigilia di Natale. Come si chiama signorina? Chiametemi Susi ragazzi. Papà dice che è importante perché serve a rendere la vita dei militari meno dura. Il proprietario di quella boutique si chiama Osvaldo. Allora ci vediamo stasera al sesto senso. Ma non so perché tutti lo chiamano la fendessa. È passata la castadina, il fiore della gioventù ci toglie. Questa signora è una compagna di scuola di mamma e siccome c'è un difetto alla vista, fin da piccolina voleva vendere gli occhiali. Ecco si, provi questi occhiali. Che fine, sa sembra che Cristian li ha fatti apposta per lei. Si guarda allo specchio, che meraviglia. In regioni detenzionali, sulla Toscana e sulla Sardegna, Nuvoruro, che oggi è locale. E questo è il monumento al personaggio più famoso, Ovidio Nasone. Dietro di lui c'è il bar più bello, il Gran Caffè. Andò, stai sempre come un grill, eh! Andate a voi! Che cretini! Qui è nata mia madre e qui abitano ancora i miei nonni. Quella che si affaccia è proprio nonna Trieste. Ma forse sarebbe meglio conoscere prima me e la mia famiglia. Questo sono io. Lui è mio padre. Fa il geometra all'ufficio tecnico del nostro comune, cioè Teramo. è tifoso del Pescara ed è iscritto alla democrazia cristiana. Però dice sempre che non l'ha mai votata. Mia mamma, invece, è diplomata maestra e lavora nella biblioteca comunale. soffre di colite con diarrea nervosa per colpa, dice, della direttrice della biblioteca di mio padre e anche mia. Questo qua ha deciso che quello che faccio da mangiare io non va bene per lui. Preferisce ammalarsi e farmi morire di spavento. Te lo dico io. Ma che ha fatto adesso? Non ti voglio agitare proprio la vigilia di Natale. Mettiamoci una bella vietra sopra e basta. Questo mangia le patatine fritte. Ho scoperto che dopo la scuola va con Nicolino a ingozzarsi di patatine fritte da Pat Burger. Michele, diglielo tu che si rovina lo stomaco. Il fegato! Dili quale sarà la sua fine. Lo sai come va a finire? Va a finire che devi portarti attaccato dietro per tutta la vita una borsa di plastica per farci bisogno dentro. Ecco come va a finire. Hai sentito a tua madre che non devi mangiare più le patatine fritte? Mai! 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 Eppure gli hamburger ci possono mettere dentro quello che vogliono, non lo capisci? C'è il fondo ghiacciato, vai piano tu! Gesù, quanta ne cate! Proprio adesso che devono arrivare! Sa bene? La si tirate la catena? Ma che tiro! Non ho fatto niente! Controllo beh! Lo sai che loro ci tengono a trovare tutto pulito? Pare che devono arrivare i principi d'Orlonia! Quando ti dice una cosa a Trieste lo devi fare è muffa! Fai come ti ho detto! Intanto porti il televisore da quella parte! Calma! Il nonno è di Cisterna ed è stato carabiniere come appuntato semplice, prima a Lanciano e dopo a Chiediscalo, dove era vice brigadiere. Da un paio d'anni ha cominciato a soffrire un po' di memoria, forse perché durante tutto il giorno non fa altro che giranzolare per casa e guardare la televisione. Che freddo! Forza, forza! Mauro, apri il confano! Guardate che qui si ghiaccia! Dai Mauro, dai! Oh, eccoci qua! Il nonno! Sempre in gamba, eh! Sono quattro giorni che non vado di corpo! Come stai, ma? Ringraziando il signore! Ritte sto! Nonna! Oddio da voi! Sono quattro giorni che non vado di corpo! Guardate, io dalle due le tre volte al giorno! Sempre perché la maledetta è colita! Mamma, credimi, non so più che mangiare! La pasta mi fa male! La carne mi fa male! Il pesce mi fa male! La verdura manca l'odore! Posso tirare avanti così? Mannaggia la panza! E io che eri preoccupato! O sta a leva e le macchine sono vettate! Per fortuna è cominciato a scendere da poco! Dopo poco lì! Questa qui è la camera da letto dei nonni! Dove fin da piccolo ho sempre dormito anch'io! Prima nel letto grande e ora nella brandina! Questa era la camera di zio Alfredo e di zio Alessandro! E qui invece dormivano mamma da giovane con sua sorella che sarebbe mia zia Milena! Questa è la camera da pranzo! I quadri fanno parte della collezione privata del nonno! Sono stati tutti dipinti da carabinieri sui colleghi! Quello che mi piace di più è questo! Che fanno la collezione sull'erba! Vedo che hai molto buon gusto! Questo è un vero capolavoro! L'ha dipinto il maresciallo maggiore Giuseppe Miscia! C'è anche scritto! Pensa che tutti quelli in possesso dei suoi quadri non aspettano che la sua morte! E perché? Questo non lo so nemmeno io! Mauro! È inutile che sia andata ad appoggiare le tue cose di là! Ne avevamo già parlato! Basta dormire con i nonno! Sei grande! Dai! E poi quella è la stanza più fredda! Ti ha male di sicuro! Nonno posso dormire con voi? È sempre fatto! Ma che freddo! Perché voi siete abituati a dormire a temperatura alta! E quello fa male! Oh! E poi il mio nipotino deve dormire con noi e basta! È grande! Ma che grande! Ti guardo là una creaturella piccola! Questo è Alessandro! In genere, subito dopo di noi arrivava da Modena lo zio Alessandro, fratello della mamma, con la zia Gina e Monica mia cugina. Stai bene? Sono contenta? Sì! Stai bene? Sono contenta! Lo zio Alessandro ama molto la natura e fa parte di un gruppo che si chiama Amici della Terra. Stai bene? Sono contenta! Però papà dice sempre che deve ringraziare a lui e alla DC se oggi fa l'impiegato delle poste. Mamma invece dice che lo zio ha un animo semplice. Ed è per questo che si è sposato con la zia Gina, che ne ha combinate e ne combina di tutti i colori. Monica mi sembra sempre più grande. Ha partecipato a un concorso di Teenager ed allora penso proprio che si sia montata la testa perché dice che vuole fare la ballerina di Fantastico. Andiamo in soffitta a prendere le ballette che fai l'albero? Uffa! Ma pensa ancora a ste cosi? Eppure il petto mi pare che gli si è ingrossato. Alessandra, è caduto il muro di Berlino, è caduta la Russia, la Polonia, la Ciecoslovacchia, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Albania, la Jugoslavia. E secondo te la falce e il martello dev' restare ancora sotto la guerra? C'è per fare rimanere nel simbolo del partito un certo continuum. Un che? Un continuum. A me lo yoga mi rilassa molto sia il fisico che la mente, capisci? E' un po' come trovare il tuo equilibrio tra il tuo interiore e il tuo esteriore, ecco. I legamenti poi guardati, si scioglie tutto. Ogni giorno poi faccio almeno un'oretta di meditazione, ah, guarda. Te lo consiglio, se in zona c'è una scuola di yoga vai, corri subito. Mi devo informare. Se c'è, corri. Corri, corri. Chi è? Da Roma arrivavano zio Filippo e zia Milena, che è l'altra sorella della mamma. E Milena? Mamma! Lo zio Filippo fa il maresciallo maggiore dell'aeronautica e lavora sopra una torre. Però quasi ogni giorno torna a casa con della cigoria campagnola. La zia Milena è tanto buona ed è famosa perché tanti anni fa partecipò a una trasmissione alla radio che si chiamava Il Gamblo. E forse è per questo che diamo molte Guiz e Mike buongiorno. Però il suo più grande dolore è di non avere figli. Come stai? Stai bene? Sono contenta. In ottima forma, ciao. Ciao Michele. Come stai? Tranquilla, eh? Bravo, bravo, complimenti. Lo sai qual è il mio difetto più grande? È che sono troppo buona. Io gli do tutto quello che ho alla gente. Tutto. E per tutta risposta sai che cosa mi prendo? Un bel calcio dove sappiamo. Ecco quello che mi prendo. Essere buono e poi finisce sempre così. Questo è l'ultimo della famiglia. Lo zio Alfredo. È Scapolo e fa il professore italiano in un istituto femminile. Questo è per te. Ciao. Alfredo. Alfredo. Milena, Lila e Gina. Te li ricordi proprio tutti. Ciao. Come stai? Bene, bene, bene. E voi? Sono contenta. Papà. Ehi, professore. Vieni qua. Beata a te. Beata a te in mezzo sempre a tutte quelle ragazzette. Ma quando è che ti leggiamo sul giornale? Professore coinvolto. Figura, ti dai? Chi vai prendi? Eh, vabbè. Ragazzini, mica ti sei offeso. Ragazzini. Ragazzini. Ciao. Ciao. Che bella. Che dici? Dove la mettiamo? Boh. Ma non ti piace fare l'albero di Natale? Ma che cosa fai? Serve per l'albero? Ti trovo bene. Dimagrita? E ci credo. Un mese di riso in bianco. Sempre per quella colita. Ah, non mi chiedere. Oramai mi ci sono fatta regia. Piuttosto te per quel polipetto. Shhh. Che c'è la mamma. Ti sei fatta vedere? Poi ti dico. Eh, Monica ha fatto un bello sviluppo, eh. Quando è cara che di la benedica. Certo è un'età un po' critica. A scuola come va? Poverina, sgobba. Si applica. Un genio non è. Un genio non è. Quindi quel che riesce a fare è tutto di guadagnato. Ma cosa stai mangiando? Ma lo sai quante calorie contiene quella roba lì? Ma sei proprio dura, eh. Ma cosa lascia stare? Ma cosa lascia stare? Che mi viene su con un culo che fa provincia. Poi dice che vuol fare la ballerina. Eh. Eh, vabbè. Fra qualche annetto capirà. Eh. Speriamo indigno. Beh, è giusto col fino. Né leggero né pesante. Ah, ma è di cashmere. Preferisco comprarne uno solo, ma buono. Ecco, eh. Non serve proprio comprare tanta roba se poi alla fine la devi buttare. Certo. Mi pare giusto. Eh. Senti, ma poi sei stata al matrimonio di Antonella? Lina, so freschi, freschi. No! Almeno tu, Milena. Questi sono i tarallucci che faccio quando eravate bambina. Eh, appunto per questo, mamma. Non mi sento. Mi prende come un groppo qui allo stomaco, grazie. Ma acqua e vino? Questi li digerisci anche i bambini. Eh, appunto, mamma. Non insistere. Ci ha detto di no, eh. Ah, qua stanno. Se li volevi. Bravo. Io uno lo prendo volentieri. Ma nonna, ti sei dimenticata? Non bisogna parlare di bambini alla zia Milena. Se ti spiace. Eh, vabbè. Ma tutte le volte. Ti dicevo, volevo chiederti. Com'è andato il matrimonio? Vabbè. Innanzitutto quel giorno mi è uscita una febbre qua sul labbro. Che non si capisce perché. Ogni volta che c'ho qualcosa di importante a me c'è da fare. E va buono questa. Non si va a scaricare la batteria della macchina proprio quella mattina. Che poi? Avessero deciso di sposarsi in una chiesa del centro. Uno diceva, vabbè, chi se ne frega, piglionta si e vai. No! Loro hanno voluto sposare in campagna. Manco fosse stata Carolina di Monaco. No. Ma dico io. Che presunto. Troppo amicioso. Scusa tesoro, ti sei ricordata del mio anziolino? Io? Che faccia tosta? Dovevo ricordarmi pure del tuo anziolino. E... E come mi dormo, mo? Monaggia! Chiudiamo! Ma lo sai quando si chiude una casa? Eh? Eh? Le d'apparello, la luce, il gas. Scongele il frigo. Non fa niente. E io devo ricordarmi pure del suo anziolino. E io non c'ho manca la ricetta del medico, mo. Oh! E se vuoi ti posso dare un po' del mio valium. Ma non è la stessa cosa! Oddio, esmo con me. Non collabora. Io vado per una ricapitona. Ecco. Perché non ti specchia D'Alfredo che fa tutto lui? Arriva al punto che talvolta torna a casa dal lavoro prima di me. Ma dico io. Apparecchia almeno la tavola, no? Fa qualcosa! Alzo una volta il culo! No! Io devo pensare pure al suo anziolino! Ecco! Ecco gli altri! Quello! E mio! Mannaggia! Ma lei, com'era? Dice che era un vestito di Valentino Spose. Chissà quanto sarà costato allora. Ma io non ci credo. Oh, secondo me l'ha presa al metraggio. Di solito, dopo i matrimoni, la mamma e le zie iniziavano a parlare delle malattie dei loro conoscenti. Sapete Rosalba quella mia collega di lavoro? Ma chi? Quella che ho conosciuto quest'estate al mare. Proprio lei. Si stava facendo la doccia. A un certo punto, pacchete, si accorge di una cosetta dura al seno. Proprio come un cecio. Qua! Non ti toccare! La mattina in ufficio si confida con me. Io le dico immediatamente, amore, lascia tutto e vai dal medico. Il dottore, il dottore appena l'ha vista ha sgamato subito. Le ha fatto fare il pap test e dopo le ha detto, signora Bella, qui si deve operare immediatamente. Oh mio Dio. Appena ha sportato il... Cecio. Cecio. L'ha fatto analizzare. Maligno. Appena sole, mamma e zia Milena iniziavano a dir male della zia Gina. Hai sentito? Mo' va a farlo yoga? Dice che si deve rilassare. Ma di che? Al posto di Alessandro, sai ceffoni? E il cashmere, la pelliccia... Scusa, ma dove li prendo tutti questi soldi? Eh Milena mia, lasciatelo dire, quanto sei ingenua. Ma tu dici? Non ci posso credere. Avete sentito che shavu? Che è successo? Il terremoto. Ma come l'avete sentito la televisione? Dove? Centinaia e centinaia di morti. Ma dove? Non l'ho capito bene, vado alle parti della Cina. Eh vabbè, voi ne sono quasi un miliardo di persone, abituate alle catastrofe, fame, epidemie, carestie. Che io poi certe scene in televisione non le posso proprio vedere. Mi fanno male. Io sono troppo sensibile. Eh, lo so. Dio mio, Dio mio! Abbi pietà di noi! La vita è una faccia di finestra. Senti un po', ma secondo te lei sta sempre con quello oppure ha cambiato partner? Uno soltanto? L'hanno vista che andava al cinema da sola? Entrava sola. Eh. Eh. Senti, così il rinfresco non è stato un granché. In piedi! Hanno voluto fare le cose moderne. Io poi con i tacchi alti. Figurati. Hai visto come ci ha guardato? Eh. C'ha la goda di baglia. Sore. Mamma e papà stanno bene, vero? Ah 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 ah. Pure papà. L'ho trovato meglio questa volta. Sì, 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 è vero. Ho notato anch'io un certo miglioramento. È più presente. Proprio meglio. Sì. Thank you. Very good. Avar you. Che c'avete da guardare? Niente. Very good. Matti. Tutti matti. Non c'è niente in realtà prima di provare una persona... Comunque un po' strano c'è sempre stato. Eh, qualche volta sì, qualche volta no. Mamma, la mia canzone solo per te vuola. Mamma, sarai con me tu non sarai più sola. Mamma, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usarò più. Mamma, mai più. Mamma, mai più. Oh, il capitone. Il capitone. Bravo. Ah, un capitone. Ah, un capitone, va. Ah! Uh! Ehi, ma che fai? Ma che fai? Cosa succede? Oggi va il gusto. Vedete, no. Dove? Vedete. Sai? E adesso? Io dico sempre a Trieste che chiude bene le porte che possano entrare gli animali, ma vattene. Rizzitelli. Si è aiutato anche con un gomito Rizzitelli. Rimessa laterale per Italia. Da Maldini a Giacomo. Alza un campanile Kulkov. Shalimov. Ancora Shalimov. Ora Michele Centro. Oh, oh, oh. Incursione di Shalimov. Mannaggia. Shalimov. Ha fatta una paradona che fa paura. Ma se l'ha mandato alle stelle. In tutti i casi Zega è il miglior portiere del mondo, ragazzi. Un fuori passi. Proprio un cavallo di razza. Guardate che fisico. Avete visto il colpo di Reni? Eh. Se uno ti salta addosso, ti si brana. Un gheppardo. Viste che ti ha fatta al 45esimo minuto. Ma con chi gioca? Con l'Inter. Con chi dovrebbe giocare? Ah, sì. No male che il capitone è cascato sul balcone di sotto. Ma ci pensi che cascava in testa qualcuno. E se ne riusciva a crederci. Che devi fare con quel braciere? Lo porto un po' in camera. Ma, ma, ma quante volte te lo dobbiamo dire che il braciere in camera da letto è pericolosissimo? Brucia tutto l'ossigeno. Eh. Un'oretta. Ma poi prima di andare a dormire lo tolgono. Voglio vedere quanto ve l'ha comprata una stufetta. So 50 anni che ce lo mettiamo e siamo ancora vivi. Certo che pure mamma è tante volte. Cocciona. Certo che è un'oretta. Svigni. Questa campanella si chiama la squilla e la suonano durante una processione la sera della vigilia di Natale. La nonna dice che è una tradizione molto antica. Mamma, dove sta la cannella? Ho cominciato. 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 Mentre suona la campanella ogni cosa un paese si ferma e tutti devono stare a casa perché la tradizione dice che i figli devono baciare la mano ai genitori. Grazie. Arrivano i fidelini col tonno! Prima i bambini. A Monica. Ecco. Un'altra pò, nonna. Quanti te ne fai dare? E' il Natale, su. Mangia, mangia, che così poi lo vinci di sicuro il concorso di ballerina per la regione. Le cose buone della vita o sono illegali o sono immorali o fanno ingrassare. Diceva Bernard Su. Uh, carina! Chi la diceva? Gli amici non lo conosco. A me vogli perché mi devo mantenere leggero. E perché ti devi mantenere leggero? Come se non lo sapessi. E me lo sono scordato. Perché? Perché domani sono di servizio. Sa bene, tu sono 20 anni che stai con te. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma da un po' di tempo vostra madre non ci sta più con la testa. Bisogna prendere dei provvedimenti prima che sia troppo tardi. Trieste ti devi curare. Eh sì, ci se la goccia. E dai, ma dai, evviva Buon Natale! E viva Buon Natale! Vieni papà, evvieni. A voi vieni. Nel rinnovarvi gli auguri di Buon Natale. Oh, guarda questa. Io me la ricordo questa sera... ...estate quale così da quando ero venuto! E' particolare, perché avremo messi collegamenti esterni per ospiti straordinari. Ma sono troppo buoni! Non ti strafogare. Sempre fine. Certo, guarda quanta grazia di Dio. E pensare che in Italia c'è ancora qualcuno che si lamenta. Qui da noi c'è tutto. Cibo in quantità, democrazia, libertà. E' un paradiso e pensare che certi italiani hanno dovuto aspettare la fine del comunismo per rendersene conto. La voglia di i nostri rivoluzionari. E ora mi spedirei tutti in Russia, Albania, Bulgaria, Jugoslavia. Mmm, trottura! E pensare che stanno a soffrire lì la fame e il freddo. Io non ci posso proprio pensare. Mi si stringe il cuore. Buono, cos'è questo? Nebbiolo, di tigno d'occa. Ciao. Ecco, vedete, questo io non lo sopporto. Io mi chiedo, mi domando come cavolo ha fatto un'atleta come Bor a mettersi con una come lei. Che non la toccarei neanche con un bastone lungo tre metri. Lascia perderebbe che io qualche bel colpetto di bastone. Su, subito, quando si tratta di bastone. Se avessi 70 anni, me lo farei vedere io. Sì, te mangi. Buonasera a tutti i nostri amici. E benvenuti. Grazie. Fesce, fresco. Ecco qua. Ma qua, cosa sono? Non cavo più rifreggio nella pastella. Ah, buona. Non vuolessi mettere un po' di vino? Pesolino, un altro pesolino. No, no, basta, amore, non esageriamo. Basta, grazie. Eh, la voglio usare sempre. Sono per un pesolino? Eh, va bene, ma me ne mangio io. Io vorrei sapere perché mangio come un cassonetto. Io non mangio come un cassonetto. E allora come? Mangio normale. Ma non capisci che così non riesci ad assaporare il gusto della roba che mangi? Ma l'assaporo, l'assaporo. Signore, io mi spacco in due in cucina. Tutti i giorni. Arriva lui. Butta tutto giù. Neanche si accorge di quello che mangia. Me ne accorgo, smettila. La smetto quando mi pare piace, va boh. Ma è Natale. Mi dico, non è Natale. C'è il cantante che detiene il record di dischi della canzone «The White Christmas», ovvero Bianco Natale. Secondo lei, questo cantante che lei vede è Pat Boone? No, 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 no. No, non è Pat Boone, difatti questo. È Bing Crosby. È Bing Crosby. Bravo! Bravo! Ma lo sai proprio tutte, eh? Non ci riesco. Da quando ero piccolo? Eh, ma è quasi questo. Questo è spino. Ogni tanto ricordo quando eravate piccolo. E me lo devo togliere subito dalla mente. Perché mi viene un nuoto alla gola? Ma mamma. Io volevo che cresciavate felice. Ma noi siamo tutti felici, eh? Io glielo dico sempre a Gesù. Fa soffrire me e non fa soffrire loro. Mamma, perché fai così? Noi siamo tutti qua, contenti. Eh, è vero. È vero. Noi siamo stati fortunati ad aver avuto dei figli. Ma quando pensa a quella povera gente che non è Anna, che tristezza. Ma perché fai così? Scusate, scusate, scusate. Ma che cosa devi scusare? Siamo la tua famiglia. Sei tu che non devi prenderla così. Si fa male. Io ho voluto che non ne avessi. Basta. Credimi, i figli non sono tutti alla vita. Ci denti pure a mamma quando comincia con i suoi discorsi. Amore, non ti preoccupare. Non è successo niente, azzia. Vai che adesso veniamo pure noi. Ma volevo la Coca-Cola. Senti questo sfrontato. Ma come ti vedi in mente la Coca-Cola? La Coca-Cola con il baccalà. Cosa di pazzo. Lo vedi? Lo vedi? Servono soltanto a farti apelinare il sangue. Ma almeno tu hai una ragione per cui vedi. Eh? E il fatto è che io sono esaurita. E tu non sai che brutta fessa è l'esaurimento del mondo. No, lo so, lo so. No, no, tu non lo sai. Lo so. Solo chi soffè veramente lo può sapere. Tu non lo sai. No, tu non lo sai. Amile, allora che devo dire? Non lo so. Ti svegli la mattina e ti senti inutile. Capisci? Disperata. Chi? Ma perché io sono sola. Sola, una donna completamente sola. A chi lo do questo amore che c'ho dentro io, eh? A chi lo do? A chi, a chi, a chi? A me, tesoro. A me, tesoro. A me, tesoro. Non volevo credere. So pensato, figurence, se una diva come ella viene abitare proprio qui. E invece? E invece una mattina sul presto l'incontriamo. Ah, sì? Normale. Mentre se ne andava in spiaggia con tutta la sua tribù. E com'è, com'è? Chi? Ornella Muti. E' come adesso, una bella perroca. Beh, guarda, non è mica tutta questa bellezza. È piccolina. E poi ha le orecchie punta. Un po' come la lina. Ma che c'ha le orecchie punta? C'ha le orecchie punta? Non me va. Pochino. Guardate le rette, che è una bella cavalla. E' ben proporzionata, questo lo devo dire. Ma vi dico, così naturale, che trovarmela di più. Abbiamo chiesto, quali oggetti è che infante le vostre figlie conservate benosamente. Chi l'ammazza? Che cosa conservano i vostri genitori? Sono droghi. Buona! Vi ricordate l'Alfredo quando ero piccolo? Si metteva davanti a due specchi e mi dà anche la mia amica a Sandra Milie e le sorelle che è. Ah ma scusa, per carità, perché voglio questi ricordi. E che c'è di male, siamo in famiglia. Per ridere. Certo. La notte è piccola per noi. La piccolina. Dai, Alfese, dai un pezzo. Sì, sì, sì. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Ezza, la notte è piccola per noi. E ci dimettiamo più. E ci dimettiamo più. E ci dimettiamo più. E ci dimettiamo più. Un applauso di incoraggiamento. Altre, non un pezzettino. Solo pezzettino. Dada un po', faccio il giusto. Dai, 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 dai. Faccio uno spettacolino, forza, dai. Prendo da luce per fare un po' la procedura. Sì, sì. E televisione, spesso. Sì, papà è televisione. Dai, 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 dai. Dada un po'. Dada un po'. Traversandoti. Traversandoti. Dai, 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 dai. Dada un po'. Stai, stai! Vado a fare parire la televisione, è altro che mi ammiglia. Prego, vado a vedere. Al prezzo mi dovete promettere una cosa a mamma tua. Che cosa? Ti voglio vedere sistemata, con una bella moglie e mi devi dare un nipotino pure tu. Ma io sono un singolo. Chi è lui? Si chiama così uno che vuol vivere da solo. Mamma, Alfredo deve fare quello che vuole. E va bene, ma sei giovane, Alfredo. Ma quando sarai anziani, chi penserà per te? Se non fosse per voi, che sarebbe la vita nostra? Mamma, Alfredo ha ragione. Trovare una brava ragazza oggi è difficile. Non credere che la gente sia tutta come noi. La gente è ignorante, ipocrita, falsa. Penta solo al suo piccolo. Perché si è perso il senso della famiglia. Ecco perché i giovani oggi vengono sussbandati, senza ideali. Ma ce lo vogliamo mettere in testa che noi siamo soltanto dei replicanti? E allora? Il nostro compito è quello di trovare una moglie, una casa, un lavoro. Mettere al mondo qualche bambino. E poi cercare di essere uniti il più possibile e tenersi per mano. È vero. Tenersi per mano. E dare tanto, tanto, tanto amore. Perché ha bidone? Ecco! Ah! Meno male che è caduto sul balcone dei cartellini. La presa Cesina. Che ci viene da guardare? Niente. Certo che questo Natale è proprio venuto con tutti i crisi. Guarda come viene giù. È tutto così bello, così intimo. C'è un'atmosfera così suggestiva, così particolare. Densa di significato. Pure da voi si usa il capitone? No, da noi non si usa. Quando è buono il capitone. Non sai che ti perdi. Non lo so, non lo so. Vi ricordate quando eravamo piccoli? E scendevamo tutti quanti a giocare in mezzo alla neve. Con te che ti buttavi con un matto di schiena per vedere l'impronta che lasciavi. E quando Milano andò a sbattere con la slitta contro il muro. Non lo ricordate? Beh, c'è poco da ridere. Tre costole incrinate per colpa di sti scemi. E quella poveraccia qui sotto di Cesina che non si affacciava per paura delle pallate di neve che le tirava alle salle. Non lo ricordate? Quanto era buona la neve nel bicchiere? Con un goccio di marsello. Via, via, tira, tira, più forte. Ma adesso sei bravata. Tira, tira, tira. Sì. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, se la neve come riscalda. Tira, tira. Non mi convince, un ultimo tocco, guarda, ecco qua, aspetta, ecco qua, ma non ha niente mamma, dai! Buon gioco! Ora mi devi dare, eh? La gallina, su adesso, siediti! Oh, equilibrio e gravità! Oh! 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 Guarda, dai, ducato! Go! Oh! Guarda, guarda! Cardellini, Cardellini! Dirate anche voi, dirate! E queste son matte, matti, matti, so' tutti matti! Oh! Vai, Gila! Andiamo la, andiamo la, andiamo la! Siamo sotto via! No! Sotto via! Ah! PORTI CANTINI! IN GAMBIA! Questa no, eh? Pura che ne si metti! Marino, voi! Ah, pure le donne adesso! È colpita, no? IN GAMBIA! Vengate qui! Volete la guerra? Eh, guerra sia! Ma che l'ha da testa? Vai! Ancora un'altra nuova! Vai ancora! Non ti prendete! Non ti prendete! GAMBIA! BAMBIA! VESIARRE VESIARRE! VITORIA! VITORIA! Dopo il cenone si univa a noi la famiglia Cardellini. In casa dicevano sempre che il signor Cardellini aveva speso tutti i suoi soldi a Roma dietro le donne e le carte. E che per questo sua moglie Ersilia si era attaccata sette volte al tubo del gas. VITORIA! VITORIA! Cesira, la loro unica figlia, è senza marito e insegna il catechismo nell'oratorio di Santa Lucia. Però tutti dicevano che è sempre stata innamorata dello zio Alfredo. Vieni, vieni, vieni. Apro le mille. Passo. E' bravo l'avvocato con la ciocco. Pure lui della parrocchia. Con moglie e figli. Doppio. Ecco perché ogni tanto si fa un viaggetto al settentrione. Chiamano le udienze. E infatti le fa le udienze. Dentro ai cessi delle stazioni. Passo. E' sicuro? E chiedilo ad Alfredo, che l'ha visto con gli occhi suoi. Dentro ai gabinetti della stazione di Milano. Che vuoi di più? Eppure la moglie è una bella cavallone. Otto. Ma compà, quando a uno gli piace la panocchia può tenere pure Sofia Lore vicino. Vedo. Una bella amiciativa. Attenzione. Vado con il numero 79. Cosa? No. E' uscito? 79. Eccolo qua il numero. Vado con il numero... Nonna Letizia è la madre di Camillo. A 95 anni ed ha un quarti ferro. Da vent'anni sta rinchiusa dentro un ospizio, da dove la fanno uscire solo per le feste. Attenzione. Eccolo qua. Eccolo qua. E' uscito il 51. 6 4 64. Attenzione. Eccolo qua. Non ci facete rientrare dentro a quell'ospizio. Quanto è brutto. Io che fastidio do in casa. Metteteci pure voi una buona parola. Si. Ecco qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. 37. Eccolo. Ma quale devo? Ma quale devo? Alfredo controlla. 2 26 37. Bravo. Sono uscito. Ma per forza, papà io già fatto cinquina prima. Scusa, eh. Eccolo qua. 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 18. 18. Oh, 18. 18. 20. 8. 18. 20. 20. 20. 20. 20. Preparatevi, che manca poco a mezzanotte! Che si fa allora? Lasciamo vedere, lasciamo tutto così! No, asciugiamolo! Lina, non facciamo la testa, posso vedere! Mamma, andiamo a prepararli! Come mi cade questo? Secondo me ti stava meglio la prima! Sì! Vedi mamma? Sì! Fammi vedere! Guarda! L'odore di quando ero piccola! Me lo fai provare, ti prego! Mi devi fare la cortesia e te ne devi mettere un'ombra pure tu! Sennò stanotte con noi non esci! No, per carica questa roba! Ma che siete amati? Vogliamo far ridere la gente! Ma che? Ma che sta bene? Ma che sta bene? Mi devo piacere! Mamma! Ti metti i papioni! Lasciate! Mamma si deve mettere il rossetto! Aspetta! Lasciate! Lasciate il rossetto! Sennò, metti il rossetto! Ma che facciamo? Stai ferma! Ferma! Fai così! Ecco! Ferma! Mi sta benissimo il rossetto! Ma che succede? Siete pronte sì o no? Guarda come sta bene la mamma! Guarda! Che bella la mamma! Eh? Che carina! Dammi un bacettino, bambina! Muah! Che sei bella! L'ho lasciato insieme! A vedere? Guarda! A vedere che metti i papioni! Sì dai! Non fa spiegarsi qui eh! Stringi forte eh! Siete pronte? Dai, su! Matti mio! Alfredo mi passi la giacca? Sì! Eccoci! Noi siamo pronti! Ma... Ma che ti sei mica? Se non me la metto oggi che è Natale! Quando me la metto? Ma che è Carnavale! Oddio mi sei ricordioso! Ma quanto le vai immediatamente che? Lascia la festa! Eh ma... Ma che volemme fare della gente proprio la notte di Natale? Eh? Ma perché? Uso... A obbedir tacendo! Questo è il nostro motto! Buon Natale! Auguri dottore! Auguri! E naturalmente alla messa di mezzanotte c'erano tutte le famiglie del paese! I cipolloni, i maranga, i marciani, i gulacioppo, i pozzolini e i mazzocconi! Guarda quello! Grande e grosso sta con quel tappo! Donna nana tutta tana! Dicono a Milano! Come non si vergogna! E' vent'anni che sta all'università e ancora non si laurea! Moglie e due gemelle li devono campare i genitori! Buone feste! Anche alla sua signora! Se viste la figlia di Parbella che bella coca che ha davanti! Per amorti Dio! Sei liconata la madre e sei liconata la figlia! Bella donna eh! La moglie dell'avvocato con la ciocca! Beh a dallo che se la gode! Quello che ha detto ha fatto la signora Trozzi è riuscita a sistemare il figlio alla regione! Gaspari! No! Rosa russa iernolino! Come andate! Anche a lei! Comandatore auguri! Signora Perla! Lo vedi l'assessore ai lavori pubblici? Prima faceva tanto il comunista! Dopo da quando la moglie gli ha messo le corne e è passato al partito socialista! E' natale dottore! Guarda che si ripete! Rosa Giannetta! E' arrivata pure in Arabia Saudina a fare le marchette! Buona tale! Almeno lei ha girato il mondo! Auguri! Si! Si è fatta le ossa! Come fessi avvocato! V freedom! Venite! Venite! Arvectete! оротiene! Massa e per orino! Convergっとi! Cristo salvatore! Venite! idealıs! Venite! Adorando! Venite! Venite! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho peccato molto, in pensieri, in parole, al povero, per mia colpa, mia grandissima colpa. Grazie a tutti. 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 Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Sapete chi ho sognato stanotte? Chi? Certe volte il sogno è proprio pazzo. Mi sono sognata la nonna Nina che stava straiata in mezzo a un campo di grano e io mi sono avvicinata e le ho chiesto «Nonina che cosa fai qui tutta sola?» Lei tenendomi la mano mi ha detto Milena, aiutami tu, sono caduta E io, come sei caduta? E lei, sono caduta da un elefante E perché da un elefante? Mamma, non lo so, i sogni sono così Non lo so perché da un elefante Buongiorno Buon Natale Ciao, buon Natale mamma Alfredino Brr, che freddo ragazzi Mamma, per me è stato un po' d'oso Ti metto dentro un goccetto di caffè, così ti tira un po' su Sono un goccino Mamma, mi dai una tazzina che porta il caffè a Gina? Sì Lei è abituata a fare colazione a letto? Beata lei che ha trovato qualcuno che gliela porta Mamma, posso avere un po' di tè per favore? Te lo preparo tu Per Gina? Sì, sì Grazie Papà si è già alzato? No, quello più tardi si alzi, meglio è... Nonno! Ah, stai alzando Nonno! Avanti papà! Papà, avanti! Papà, sono, vieni fuori! Salerio, esci! È un ordine! Bisogna rispettare il proprio turno Così dice il regolamento dell'arma Io non ti conosco Io non so chi sei So che hai cancennato Con un gesto i sogni miei Sono nata ieri Nei pensieri tuoi Eppure adesso siamo insieme Non ti chiedo sai Quanto resterai Anche tu sei per mina E certo Come si fa? Lei per me è unica No, per carità Mi piace anche Battisti, De Gregori, Dalla Però con lei ho... Ma sarà forse perché mi ha aiutato A superare dei momenti difficili della vita Pensa che una volta Stavo con una persona E non sapevo se troncare tutto o meno Sai quando le storie cominciano a prendere una piega che... E... Insomma Vado a comprarli su Ultima LP Non l'avevo mai sentito Lo metto sul piatto E manco a farla apposta C'era una canzone intitolata Ancora, ancora Oh, sembrava scritta apposta per me Sentire lei che diceva Ancora, ancora Io ti amo, ancora Improvvisamente capire che ho questa persona L'amava ancora Stato tuttuna, stato Meno male che sono figli tutti Perché quando ci sono loro in mezzo In casa Non si riesce a combinare niente Più passa il tempo Più diventano noiosi E inutili Ha proprio ragione Che lo trate veni solo Che dice che bisognerebbe cambiare partner Nel ogni tre anni e mezzo Ma chi? Quel bel ragazzo Che va sempre da Maurizio Costanzo Show Come si chiama? Scarpi Lui dice che dopo i tre anni e mezzo Si diventa come fratello e sorello Eh, mi sa che c'ha ragione È vero Ogni tanto una botta di vita Ci vorrebbe proprio Eh, io che dovrei dire allora Che sono più di 60 anni Che sto con quel cataplasma Mamma, ci dovevi pensare un po' prima Si è vero Sono stata una ciuccia E se domani non potessi vivere a te Mettiamo il caso Mamma Dov'è il maraschino? Non c'è Come non c'è? A fritto Sto dimenticata di comprarlo E come faccio a fare la crema maraschino senza il maraschino? Il mandarinetto usa la bella Non è la stessa cosa Il mandarinetto usa la bella? Ma la sentite? Io dovrei fare la crema maraschino col mandarinetto E viene al mandarinetto E dov'è? Nel mobiletto del soggiorno E come ogni anno La mattina di Natale Papà ci costringeva ad andare Alla ricerca di qualche pauro uccellino Vieni a papà, vieni Che quest'anno ci deve essere stati di popolamento Prima del pranzo di Natale C'era lo scambio dei regali Mamma Questo papà Non dovevate Non c'è anche per te Mau Guarda Auguri papà Tanti auguri Buon Natale Guarda come si fanno grandi Guarda Dio che bella Sono anni che vado alla ricerca di una vestaglietta di questo colore Non sono mai riuscita a trovarla Adesso arrivi tu Grazie Figurati Splendita Auguri Questo è per te Grazie Aspetta Aspetta Che ti occhio è il mio Aspetta Aspetta Un attimo Quello Grazie Eccolo Dati auguri No Grazie 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 Eccolo Così posso fare il completo Ma che idea si vuoi fare Non me l'hanno già fatto Che cos'è? Quando parli si muove Ciao Ti piace? Se vuoi te lo regalo Grazie Grazie Ma ci sono venuto alcune decine di migliaia di persone Ma ci sono venuto alcune decine di migliaia di persone Ma ci sono venuto alcune decine di migliaia di persone Che ha spiegato il maltempo Goodbye Questa è firmata Lida Auguri E' un cavatatti E' un oggetto fine Per gente di classe Ti piace? Hai esaudito un sogno Tu non puoi capire quanto mi può essere utile questa pinta Adesso scompriamo subito perchè è quasi ora di mettersi a tavola Si Aspettate un momento Aspettate un momento No Grazie Grazie E io devo preparare la mia salsa Foto di gruppo Tutti pronti Per il rito della fallografia Siamo pronti? Aspetta Ecco qua No no pronti Mettate pure a me però Ci siamo tutti? No no che tutti Ce l'ho anch'io ecco Messa a fuoco pronti Autoscatto Via Togli 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 Solidete Ma io dovevo Scusa Un momento Ma mai Ma mai Cari romani, italiani, felice e santo Natale, la pace di Cristo Salvatore regna i vostri cuori, come le vostre famiglie. Visto che oggi è una giornata così bella, vi voglio anche dire una cosa importante, è da tempo che ve ne volevo parlare, ma poi passa oggi e passa domani, ma oggi ho deciso, e quando Trieste prende una decisione, quella davvero abruzzese, cocciatore. Che ci devi dire di così importante? Abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere, vogliamo passare più vicino a voi. Noi ci siamo sempre mosse da qui e lo sapete, sempre poco. Eh sì, lo sappiamo. Però adesso basta, basta vivere sempre da soli. Oggi, ma finalmente, dico io, in quindici anni che sono sposata sarete venuti in casa nostra, che so io, un paio di volte al massimo. Ma da quanti anni è che ve lo sto dicendo? Eh, uscite, che diamine! Ma se non aspettavamo altro, vero Gila? Sicuro. Che bellezza! Che bello Natale! Hai sentito, sapete? E io che pensavo che voi non ci volevate. Ma me lo fate! Ma me lo fate! Ma me lo fate! Ma me lo fate! Che bella consolazione a tenere dei figli come voi! Non vi vogliamo, ma come ti vengono in mente certe cose? Ma l'avete sentite? Non vi vogliamo! Ma, appena lo decidete, ce lo fate sapere! La nostra casa sarà a vostra completa disposizione! Adesso mi vero! Però ve lo dico lo stesso, perché con voi voglio essere sincero e pieno in pieno! Ma, allora, lo sapete che avevo pensato anche all'ospizio? Ma, l'ospizio? Che c'entra l'ospizio? Ma quando ci sono andata, io ho sentito quell'odore di vecchi! Mi sono sentito come un blocco qua! Alla bocca dello stomaco! Anche perché io da solo di lei la responsabilità non me la posso prendere! Intendiamoci! Non è che non me la voglio prendere! Non me la posso prendere! Perché io ho il mio lavoro! Io devo studiare l'inglese! Tra poco apriranno le frontiere! Quindi non avrò tempo! E infatti un'altra ragione è proprio lui! Ci può succedere qualcosa da un momento all'altro! E qui da sole chi ci vede, chi ci sente! Ma cosa potrà mai succedere? Sì, adesso si pone il problema con chi andare a vivere! Ma... Non so mai! E io vi dico subito che a me quella zingarata di passare dall'uno all'altro dei figli come pacca postale per carità! Ma non sembra fatta ridere! Ma che? Giri di qua, di là! Ma ve lo immaginate a noi due? Roma, Como, Modena? Per carità di Dio! Perciò ho pensato che sarete voi a decidere! Certo non sono nata ieri! E so che un po' di fastidio lo daremo! Perciò ho giudicato che oltre alla metà della pensioncina che noi daremo a chi ci prende con sé, investeremo pure la casa! È un grosso capitale, non è! Però è tutto quanto quello che noi possediamo! Non è così? Adesso ci pensate, ne discutete, fate i vostri calcoli e quando avete preso la decisione ce lo dite! Con calma! Tanto nessuno ci corredete! D'altronde mica ci possiamo spostare adesso con il freddo! No, adesso no! A primavera se Dio vuole! Quando la stagione si riscalda! Aprile, maggio... Maggio è giunto! Se Dio vuole! Certo, certo! Beh! Buon appetito eh! Buon appetito! Buon appetito! Come mai Alfredo non è venuto? Dice che arriva più tardi! Dava prima una mano a mamma di ordinare! Gioia, perché non vai a giocare con le macchinette? Mamma, ma non mi piacciono! Allora vai giù a fare un bel pupazzo di neve, perché noi dopo lo veniamo a vedere! Amore, va anche te a giocare col Mauro, vai! Ma io non ci voglio andare! Allora vai a prenderti un bel buco notto di cioccolato, che qui li fan buonissimi! Dava! Scusate! Ragazzi, guardiamoci chiaramente! Qua secondo me l'unica persona che può veramente occuparsi dei nostri cari è proprio Alfredo! Adesso mi dispiace che non c'è! Alfredo? Scusate, ma come si fa ad affidare due persone anziane ad un uomo solo? Scusa Gina, se permette siamo noi della famiglia a stabilire quello che si può e quello che non si può fare! E infatti Lina ha perfettamente ragione! Ma certo, ma chi meglio di lui? Solo, senza mogli, senza figli, libero! Mamma così potrà fare da mangiare! Almeno quando torno da scuola trovo un piatto caldo! Antonio! Per me niente caffè, meglio una sabuca! Quindi un caffè solo! Decaffeinato! È una grappa! E pure per la pensioncina! Anche se gliene danno solo la metà! È sempre un bel gruzzoletto, no? Non so se avete seguito, ma ultimamente l'arma ha avuto dei begli aumenti! E la casa, dove la mettete? Anche quello è un bel capitale! Al giorno d'oggi... Certo, quello che decidono loro due, per carità! Però pure la casa! A me sembra un po' eccessivo! Scusate! Certo, certo! Hai ragione, Lina, che poi non è nemmeno per il capitale, ma è per un fatto sentimentale, di affetto, diciamo! Scusami, Chiara! Avere un focolare, un punto di riferimento per la famiglia! È importante! Questo lascialo dire a noi, eh, Michele! Che ci siamo nati e cresciuti! Ma Alfredo sono sicuro che capirà! La mamma l'ha detto così per delicatezza! Alfredo non accetterà mai la casa! Dopotutto gli stiamo offrendo una buona opportunità! Non ha sempre detto che non ce la fa stare lontano dalla mamma e dal papà! E allora? Dite quello che volete! Però non vedere mamma e papà dentro la nostra casa mi distrugge il cuore! Non fare così, tesoro! In fondo vanno a stare da tuo fratello, mica vanno da un estraneo, no? Ma finirà tutto, capisci? Finirà il Natale! Finirà la gioia di questi giorni! Siamo sempre stati così uniti! E adesso mamma e papà hanno bisogno di un nostro aiuto! E ce lo vengono a chiedere! Dio mio! Filippo! Lasciami la mano che non riesco a girare il cappuccino! Ho pensato pure all'ospizio! Non ci posso pensare! È andata persino a vederlo! Lino ti prego non le dire queste cose! Non sai che mi fanno male! Riflettendo mi è venuta in mente una sciocchezza! Per quanto riguarda la casa vedremo il da farsi! Ma la roba che sta dentro? Che mica l'adorazione della casa comprende anche quello che c'è dentro! Non sarebbe bello! Perché dentro ci sono delle cose che c'è? Non mi chiamate! Il televisore è nuovo! E la lavatrice che gli abbiamo regalato noi l'anno scorso? È nuova! Poi c'ha quel programma per i capi del... Allora scusate ma vorrei mettere le mani avanti! Visto che siamo in argomento! Perché in quella casa c'è una cosa che a me mi fa proprio morire! La quale? Il comò! Quello che sta nel corridoio? Sì! Quello che era di donna Lisetta? Eh! Ah! Quello tutto indarsiato con la chiesa di marmo sopra! Scusa Lina ma in casa c'è un comò solo e credo proprio che lei voglia quello! Oddio! Quanto mi dispiace Gioia! No infatti è che quello me lo regalò proprio a me non a Lisetta prima che ispirasse! No! Siccome quando ero piccola stavo sempre lì davanti a guardare tutto quel intarsi! Un giorno disse quando sarai grande questo sarà tuo! Naturalmente tu capisci finchè lo usano mamma e papà per cal'età! Ma dopo? Scusa Lina ma quando è morta la nonna Lisetta tu non avevi un anno? Sì! E come fai a ricordartelo? E' il primo ricordo che c'ho! Infatti se tu mi chiedi qual è il primo ricordo che c'hai io ti rispondo questo! Ma pensa! Io invece penso alla faccia di Alfredo quando gli daremo la bella notizia! Ma state scherzando? Ma come? Non sei contento? Contento? Ma allora dite sul serio! Ma di qua siete impazziti? Ma che c'entro io? A posto non sono venuto al bar eh? Ma come siete venuti in testa scusa eh? Io un uomo solo che si mette a cudire a due vecchi? Gioia! A parte che Mammina e Papino sono due persone del tutto agibili e non vecchie come hai detto impropriamente tu Poi se abbiamo pensato a te è pure per farti un favore Un favore? Si capisce perché sono due personcine Che non soltanto ti faranno sentire meno solo Ma ti daranno pure una mano dal punto di vista economico Scusaci se è poco E così secondo voi dovrei rinunciare alla mia vita? Alla mia indipendenza? A dieci anni di training autogeno per questi quattro muro e un po' di soldi in più? Alfredo Il fatto è che tu sei l'unica persona senza responsabilità Senza famiglia L'unica che vive da sola Ma io non vivo solo Non vivi da solo? No Sono dieci anni che coabito Oddio Ma allora ci sono dei segreti fra di noi Sono dieci anni che stai con una donna e non ci dici niente Ma chi è? Che fa? Come si chiama? Si chiama Mario E fa il vigilantes Oddio Mauro e Monica Andate a giocare in cucina per piacere È arrivato Giro Limoni Sì Bene Così finalmente lo sapranno pure loro che cosa sono stati capaci di fare Perché scusa io non sono mica una mezza femmina e non siamo nate dagli stessi genitori Alessandro per favore eh Tu non sarai frocio Però è meglio che stai zitto eh Adesso capisco perché ti sei incontrato con l'avvocato con la cioppa dentro ai cessi della stazione E allora? Avete visto? Che cosa vi avevo detto? Quel secondo me c'è una sola persona che può occuparsi di loro Una e basta E secondo me questa persona sei te Io? Sì carina sì Perché tu sei quella che gli è sempre stata più accanto Che li conosci di più E poi sei quella che abita più vicino anche Lo spostamento sarebbe meno soccante Stessa regione stessa lingua Ma ve li immaginate quei poveri due vecchietti a Modena? Ma non avrebbero neanche più il coraggio di uscire per il trauma Sì è arrivata la rega Lombarda Ma se io non so dove mettere le mani io per prima Sola in casa con due uomini Esco la mattina per rientrare la sera E quando rientro in casa io solo so quello che trovo Senza la collaborazione di nessuno Con l'esaurimento nervoso che mi arriva fino alla cima dei capelli La collina è spostica E tu mi vieni a dire di prendermi cura di questi due poveretti Ma come ci hai potuto pensare? Però devi ammettere che a te sono molto più affezionati Tu sei sempre stata più presente Ma ti ci metti pure tu? E' certo che sono stata più presente Sono quella che abita più vicino Allora se la mettete su questo piano Vi devo dire che proprio per questo me l'avete sempre messo nel di dietro Con rispetto parlando Quando l'anno scorso papà ci ha operato la vescica Chi c'è stato a fare le notate in ospedale? Io sola Senza un cane che mi desse un cambio Scusa Lina ma non ti ricordi che ti telefonavo tutti i giorni Per chiederti se volevi che io venissi a darti il cambio E tu hai sempre detto di no Adesso se vuoi fare la vittima Io ho detto di no perché sei un uomo Era tua moglie che doveva venire Perché se c'era da fare un caffè almeno lo sapeva fare E questo era lei che lo doveva capire Che dice di avere una certa sensibilità Ma siccome tua moglie la sensibilità ce l'ha solo da una parte Lasciamo perdere che è meglio Allora vuol dire che questo discorso riguarda anche me E si capisce? Povera Milena diceva mamma Telefona sempre Però la padella sotto al culo a papà Le la mettevo io Cara Io sono vent'anni che me li ciuccio Ora basta Ciucciateveli voi Hai sbagliato Non lo dovevi fare Ma pure? Certamente Perché così facendo li hai educati male E ora chi ne fa le spese siamo tutti quanti noi Se si fossero abituati a vivere da soli A fare affidamento solo sulle proprie forze Adesso non saremmo qui a parlarne Non ti pare? Filippo ha proprio ragione cara Gesù Mamma mia devo sventire pure in colpo per averli aiutati Elina purtroppo è la verità Tutti noi ci siamo dovuti adattare ai tuoi comportamenti Per non fare poi noi la parte dei fili ingrati È vero Hai fatto così per arrofianarti la mamma e il papà Ecco perché l'hai fatto Ma che state dicendo? Ma che dici? Tu che nemmeno sei della famiglia Elina Televisione Eccoci qua Dollaro 204,505 Eq 1535,415 Avete fatto bene Marco Tedesco A chiudere la porta Così l'ambiente si tiene caldo Fuori fa un freddo caldo Ma come si fatico io uscire con questo freddo? Ma io fuori anche se è meno 40 La mia passeggiata la devo fare Pigli l'aria e sfoga le cosce Possiamo entrare ora E che le avete mandato via? E da quel pomeriggio tutte le volte che non ne uscivano Si chiudevano in una stanza e ci mandavano via Ah è così quando vi fa comodo io faccio parte della famiglia Quando non vi fa comodo io non ci faccio più parte Guarda carina che mia suocera dopo tre mesi che mi ero sposata è venuta a stare da me Perché mio marito ha voluto così e io mi sono dovuta stare zitta Perché è crepata se no ancora la stava Comunque mio marito per me faccia quel che vuole Solo sappia che non appena i suoi mettono piede in casa mia Io faccio le mie valigie e me ne vado Ancora? Ma dove me li metto che non c'ho nemmeno il posto? Ma come non ce l'hai? Ma metti Maura a dormire nello studio no? E allora tu con una casa di 180 metri quadri Senta parlare del terrazzo che non c'ha nemmeno figli Questo non lo dovevi dire Giuda! Come quella volta che mi hai trovato a fumare con la tona mia E sei subito corsa a raccontarla a papà Ma che ne potevo capire? Sì capì Ma non capivo Capivi capivi In verità tu hai sempre fatto tutto Ecco La verità è che sei gelosa di me Io sono tutta di te Sì perché sono alta stella e cioccolate Bella gratitudine Proprio tu che sei sempre stata la preferita della mamma E che se non fossi stato per papà E poi avresti visto il concorso Parli tu che sei tanto il comunista rivoluzionario Che se non ero per mio marito la decine A questo ora sai dove stavi? A pulire i celsi stavi! Io sarei una troia Amore Ma lo senti che cosa dice tua sorella? Eh? Dice che sono una troia E tu che cosa fai Cristo? Non rispondi, non reagisci Ma che deve reagire? Che deve reagire Ma non lo vedi come l'hai ridotto? Calma Tina Se siamo arrivati a questo punto Allora diciamola tutta Che il nostro fratello abbia sposato una troia Su questo non ci viene Che poi però qualcuno ne abbia approfittato E ci abbia zuppato il suo biscotto Lo vogliamo dire o no? Non capisco Ah non capisci? Michele spiegaglielo tu Io sono di natura tanto buona e cara però Sono usciti Michele? Eh? A quale biscotto si riferisce mia sorella? Non afferro Nemmeno io Guarda Michele che non puoi negare Abbiamo le prove Mi avete fatto seguire Filippo Fagli vedere Andiamo Ecco qua Fermo posta Spero non vorrete negare l'evidenza Tutto corrisponde L'orologio La collana Anche la voglia che hai sul braccio Michele Se poi vogliamo controllare anche il neo che hai sulla natica sinistra A tua descrizione Ha distrutto la faccia della mia casa 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 Fammi vedere anche a me Ma non è rapa per te Vai L'ho chissata 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 Alpredo Dove siete? Guardate chi c'è? E cosa fate tutti qui? Guardate chi è venuto a farvi un salutino Zia Clementina Zia Clementina Oddio che bello vedervi tutti quanti qui riuniti Che c'è? Posso? Sentite, io ci ho pensato È inutile che ce la prendiamo l'uno con l'altro Vieni, vieni, vieni Vieni Che c'è? Hai fatto bene a venire Che succede? Stavo dicendo che qua la situazione è grave È inutile che ci scaniamo fra di noi, non porta a nulla È quel che dico anch'io Mi sai che fai una cosa? Chiama Alessandro, ok? Ne parliamo un attimo Con calma Solo! Se volete parlare per di voi, io vado fuori Dove vai? Qui la soluzione deve essere comunitaria Volevo dire, ci sono ospizi e ospizi Mica sono tutti uguali Innanzitutto cominciamo a non chiamarli più così Ospizi Che? Albergo Casi albergo Ce ne sono alcuni che fanno impazzire Sono bellissimi, pieni di alberi, piante Al limite, dico, se c'è qualcosina in più da pagare Ci vendiamo la casa Ma non l'avete capita la mamma? Che cosa ne diciamo? Non vi vogliamo più E la gente? Non ci avete pensato a quello che direbbe la gente? Quattro figlie li hanno messi a un ospizio No, no, è una soluzione che non possiamo prendere in considerazione Su Ti diamo a sorte A sorte? No, 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 io non ci sto, eh? E se dovessi toccare a me? Adesso che finalmente ho trovato il mio equilibrio con Mario No, no, per carità, per carità, eh? Se lo possiamo fare il contrario Per carità Veniamo noi qui Eh? Quattro figli Tre mesi per ciascuno Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, eh? E il lavoro? Secondo te spostano la torre di controllo qua Ma non direi di ozio Va bene Andiamo in parrocchia Andiamo in parrocchia? Cerchiamo una donna che gli faccia compagnia Chiediamo a Don Tannino Una filippina Un albanese Una polacca Avete visto in televisione? Bravissima gente Scusate, scusate Adora non mi vuole entrare in testa Eh? Ma non l'avete ancora capito? Loro vogliono starsene con noi Vogliono il nostro affetto Non vogliono andarsene via da questo mondo soli E abbandonati Ma tutte queste chiacchiere per niente Manco campassero gli anni di Noè Ma quanti anni pensate che possono campare Quei due poveretti? Ma l'avete visto? La mamma avrà 80 anni Il papino qualcosa di meno Ma hai visto com'è conciata? Lascia perdere che l'età mente si è allungata E poi di solito Chi gli sta sempre male è quello che campa di più Gli sta sempre bene Invece un bel infarto Un ictus E via Eh? E questi sono i casi più fortunati Ma ammetti una paralisi Ti si immobilizzano per tutto il resto della vita Che fai? Eh? Chiami Cristo che ti aiuta? Mauro! Quando torniamo su a casa facciamo i conti Ma che ho fatto adesso? Ma non lo vedi che sei tutto fratico? Perché non vai a finire i compiti piuttosto? Ma a me è rimasto di fare il tema sulle vacanze di Natale Se non le finisco Certo Aspettiamo sempre l'ultimo giorno Guarda in mezzo a quella neve Sai i germi? Uffa Quanto chi se ne prega se quello là fuori si ammala? Ci abbiamo la scena qua? Che poi comba Questi sono di razza Questi c'hanno una fibra E che non lo so? Vieni mi sono fatto un giretto al cimitero Così per divertirmi a guardare le labbra Non lo sono neanche segnato Ecco qua Guarda Che giovane è questo? Nonno Danino E' morto a 85 anni Sotto al bombardamento Pure? Se no A te Quando ti dici una cosa tua madre La devi subito eseguire E' zitta e bordo Che poi Mammina e papina Vi tende a scherzare Si sono fatte pure due guerre mondiali Sottembrati E no? Vuoi far facersi una violenza? Non sono qui Sotto 6 e 7 cavi Siamo bene No Goditi l'aperitivo Sta arrivando la raessa Uff Per questi negozi Ti stanchi solo Scusa Tesoro mio Cosa desideri bene? Un martini dry Grazie amore Un boccanotto alla cioccolata Cosa cosa? Bocconotto alla cioccolata Guarda se hanno un bel yogurt magro Che ci fa pure pranzo Bocconotto Allora a Capodanno vi aspettiamo tutti al ristorante Palomba Dove si mangia, si beve e si zompa Con lo spettacolo di Rudy De Cesaris Buon anno Ma noi per il veglione di Capodanno Non si organizza niente? Con i pensieri che abbiamo pensiamo al veglione Dicevo così Tanto per dire Purtroppo queste notizie di serenità sono turbate Da un'altra notizia Di un morto e tre feriti A seguito dello scoppio Che ieri notte ha distrutto un appartamento Alla periferia di Milano All'origine del disastro La fuoriuscita di gas da una bombola All'interno di una vecchia stufa Salgono così a 185 Dall'inizio dell'anno Le vittime di incidenti causati da fughe di gas A questo proposito Per una maggiore sicurezza Vi invitiamo a controllare periodicamente Lo stato di conservazione e di efficienza Delle apparecchiature In modo particolare Quelle alimentate con bombole a gas liquido Gli inviti alla prudenza Non sono mai troppi What is this? Come? What is this? Mo te dono schiaffo This is bu 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 Settete Ma quale bu bu Settete nonno This is book Book Libro Ah ma questa è iglesia Mamma Che c'è? Oddio Ma che avete fatto? Un altro regalo Così finalmente potrete buttare col bracciere Sarebbe anche ora no? Quello era per Natale E questo è per Capodanno Ma non dovevate? Eh su è una stufetta Abbiamo contribuito un po' per ciascuno Sì un po' per uno Questa ve la mettete in camera vostra E' semplice e funzionale Eh? Ma che bello pensiero Dite la verità Guardate come si sposta facilmente Eh Alfredo? Eh L'abbiamo convenzionato Alfredo Abbiamo messo questo bel fiocco Michele E che ti devo dire? Che vuoi dire? Io ti ringrazio Ti ringrazio con tutto il cuore Hai visto che bel regalo che abbiamo fatto ai nonni? D'altra parte è quella stufa Questa qua Quando ve la mettete in camera E ve la accendete Rimane calda per quando volete voi Non è come il prasciere che fu Se brucia l'ossiccio Una rosa Tante rosa Solo rosa per voi Donate rosa Solo rosa Per voi Strabigliava in quegli anni Cresce il concitativo Attacca panni E così con la raccomandazione Dell'amico di papà Anche noi riuscimmo a trovare posto alla palomba Dove la mamma e le zie Dicevano che c'erano tutte le famiglie importanti del paese I cipolloni I moroni I maranga I barbati I pozzolini I contenti I mazzocconi E i colacioppo Un'uscita da subretti Indiavolata Monica Lila assaggi le lenticchie Sono molto buone Con la collina le lenticchie Chi mangia lenticchie a Capodanno Fa quadrini tutto l'anno E la tradizione Almeno buone devi assaggiare E fa cornice con questa soluce Al sogno più bello che c'è Spoggiano i fiori di mille colori Soltanto Perfetto Al sogno più bello che c'è Scusami Ma quello lì Chi sa ballando con Monica Non è il figlio di Mazzocconi Quello della pasta all'uovo Sembrerebbe proprio Di sì C'è un bel piazzato E' c'è un bel piazzato E' il figlio di Mazzocconi Allora vola dal Cardillo, dall'Adriatica va alla Maiella. Quante belle, quanti arzilla, vola e canta e fa cicci. Cip, 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 cip. Ecco, cip, 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 cip. Ok, ok, ok. Luce, incombe la mezzanotte. Avete riempito le coppe? Sì! E avete riempite di champagne? Sì! Rolo di tamburi! Meno 10! 9! 8! 7! 6! 5! 8! 3! 2! 1! Sette! Tanti auguri! Hau! Khūpia! Kasamji! Bek!' Sì! Sette! Plutus! Le mie vacanze sono cominciate bene, però sono finite male, perché sono morti tutte e due mie nonni. Davvero? Mi dispiace. Sono morti per lo scoppio del gas, ed è stato molto importante perché l'hanno scritto i giornali e l'ha fatto vedere pure la tv. Però non capisco perché mamma, papà e gli zii hanno detto che la colpa è stata della stufa, che era troppo vecchia. Invece la stufa era nuova, perché gliel'hanno regalata proprio quello stesso giorno per la festa di Capodanno. Se sa più gelosia, se sa rimpianti, se sa mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. E ridere sempre così e giocontro, e ridere delle folie del mondo, e ridere perché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu. Spesso la comedia dell'amore, la tua donna a recitarti fa, tu diventi allora primo attore, e ripeti quel che tu vorrai. Su il terzato accende e gioco la tela, e finalmente torna la realtà, e la sua comedia dell'amore in una farsa trasformata. C'è il banjo, c'è il banjo, c'è il banjo, c'è il banjo. E ridere sempre così e giocontro, e ripeti quel che tu vorrai. Grazie a tutti. E vivere finché sei gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu. E vivere finché sei gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu. E vivere finché sei gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu. E vivere finché sei gioventù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.